Il nuovo bollettino emesso da Arpa Piemonte mantiene l'allerta arancione per valanghe sulle Alpi e l'allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico per i settori orientali. La perturbazione che ha determinato le precipitazioni intense nelle ultime ore si sta spostando verso est, determinando un'attenuazione ed un progressivo esaurimento dei fenomeni a partire dai settori sud-occidentali. Lunedì permarranno condizioni variabili, soprattutto al... Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.